ciao a tutti e benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale sapete già cosa sta per succedere perciò cominciamo non so se ve ne siete accorti ma a dicembre non ho pubblicato il video dedicato ai miei prodotti preferiti del mese ho invece condiviso con voi il best of beauty del 2017 un video nel quale appunto vi ho parlato di tutti quelli che a mio avviso sono stati prodotti di bellezza migliori dell'anno che appena trascorso se ve lo siete perso vi invito a guardarlo lo trovate cliccando sulla i che comparirà da qualche parte qui sulla mia testolina ciò significa che il video di oggi andrà un po a includere i miei prodotti preferiti degli ultimi due mesi dicembre e gennaio cominciamo appunto con la cura della pelle ho due prodotti da consigliarvi molto molto diversi tra loro il primo è questo il clarisonic mia fit credo che tutti conosciate il clarisonic si tratta di spazzole a vibrazioni soniche per la pulizia del viso è un prodotto che esiste sul mercato da tantissimi anni io lo uso da quando l'ho scoperto credo addirittura prima che fosse ufficialmente distribuito in italia se non ricordo male l'avevo ordinato online dall'america la versione originale si presenta così quindi decisamente ingombrante il che è un problema quando si viaggia infatti fino ad oggi diciamo fino a dicembre ho sempre dovuto rinunciare al clarisonic quando viaggiavo poi da seforo ho trovato finalmente la versione compatta la versione mia fit come vedete è circa la metà anche meno un terzo dell'originale funziona però altrettanto bene ci sono due pulsantini quello che lo attiva ne attiva la vibrazione poi uno per aumentare o diminuire l'intensità della vibrazione come dicevo si tratta di una spazzola sonica per la pulizia del viso che va usata insieme a un detergente io lo utilizzo tutte le mattine e trovo che faccia una grande differenza va davvero a detergere a fondo la pelle e anche a renderla più tonica e più compatta quindi io ve lo consiglio tantissimo i prezzi dei clarisonic sono abbastanza alti ma vi assicuro che vale la pena provarli se avete dei soldi da investire io ho acquistato il mio in negozio da sefora per qualche strano motivo non riesco a reperire la versione mia fit online sul sito di sefora misteri della rete l'ho però trovato sul sito ufficiale di clarisonic perciò se volete saperne di più conoscere i prezzi insomma avere maggiori informazioni vi ricordo che come ogni volta sul mio blog troverete la lista di tutti i prodotti dei quali vi parlerò nel corso di questo video con link diretti per saperne di più eventualmente anche acquistare quello che vi ispira e ovviamente il link al mio post dedicato è lì nella infobox molto bene secondo prodotto preferito per la categoria cura della pelle in realtà è un prodotto che poteva anche finire nella categoria trucco perché è un po' una via di mezzo sto parlando di questo signorino il rose gold elisir della farsali l'anno scorso c'è stato tantissimo hype attorno a questo brand che è relativamente nuovo un brand abbastanza giovane che ha proposto sul mercato e lanciato sul mercato una serie di prodotti particolari nello specifico questo è un olio secco idratante che si può utilizzare appunto per la cura della pelle semplicemente quindi da solo mattina e sera oppure lo si può unire al fondotinta per ottenere un finish più luminoso io lo utilizzo principalmente in questo secondo modo mi piace tantissimo perché va a rendere più appunto più luminosi più brillanti anche i fondotinta più matte più mascheroni è infuso con oro 24 carati super chic è uno di quei prodotti appunto che sono stati tanto di moda l'anno scorso il che mi ha incuriosito perché purtroppo questa cosa che quando sento parlare sempre più spesso di un prodotto poi mi viene lo sgheribizzo di provarlo a natale l'ho ricevuto in regalo ne sono stata felicissima tant'è che è finito dritto dritto in questo video dei miei prodotti preferiti perché da quando l'ho ricevuto praticamente l'ho utilizzato ogni giorno mischiandolo al mio fondotinta e rende appunto il finish oltre che brillante anche più naturale più sano mi piace tantissimo costa abbastanza ma secondo me se avete dei soldi da investire siete curiosi di sperimentare prodotti nuovi questo è uno che vale la pena testare e provare l'ho trovata in vendita da sephora online nei negozi per adesso non l'ho ancora mai visto questi erano i miei due preferiti in campo di cura della pelle adesso passiamo alla sezione trucco eccoci qua nella sezione trucco quanti prodotti ho da mostrarvi? tre, tre prodotti il primo è una palette di ombretti della Uda Beauty eccola qui un po' il light motive di questo video è prodotti comodi da portare in viaggio infatti questa palettina l'ho acquistata a dicembre mentre ero in giro a cercare camion che passano sotto la mia finestra ben ritornato camion non tirami di nuovo giù il balcone se ce la fai eh? grazie mentre dicevo mentre a dicembre ero in giro alla ricerca dei regali di Natale ho visto questa palettina l'avevo presa per regalarla e poi me ne sono innamorata il brand è Uda Beauty come vedete ci sono delle tonalità rosa rosso bruciato tutti colori molto caldi che sono anche i miei preferiti per quel che riguarda gli ombretti la qualità è ottima mi piacciono tantissimo soprattutto quelli più glitter tra l'altro anche il trucco di oggi l'ho fatto utilizzando questa palettina che fondamentalmente è quella che ho utilizzato quasi tutti i giorni negli ultimi due mesi detto proprio semplice semplice ci sono tanti colori diversi che permettono di ottenere dei look più naturali ma anche più intensi insomma una palettina piccola comoda da portare in viaggio tiene poco spazio anche in bagno e vi permette di creare tanti look diversi cosa si può volere di più? io ve la consiglio tantissimo il secondo prodotto per la categoria trucco è una matita per le sopracciglia nel 2017 ho provato diversi prodotti per le sopracciglia molti mi sono piaciuti decisamente tanto come il brow 2 mi sembra si chiami quello che non va via mai oppure sempre della benefit il goof proof che era una delle mie matite preferite l'anno scorso ho deciso di provare questa che dicevo appunto è sempre della benefit ed è e si chiama precisely my brow pencil una matita dalla punta finissimissima non so se riuscite a vederla è veramente super fine non c'è bisogno di temperarla perché ha il solito meccanismo che ruotando fa uscire il prodotto dall'altra parte c'è il classico non so mai come chiamarlo scovolino mi viene sempre da chiamarlo per pettinare le sopracciglia mi piace tantissimo perché permette di definire in modo super preciso le sopracciglia proprio andando a disegnare peletto per peletto mi piace un sacco l'ho utilizzata da quando l'ho acquistata a metà dicembre se non ricordo male il colore che ho scelto è lo stesso che avevo anche con il goof proof il numero 4 che adesso si esatto il numero 4 ed è un prodotto che mi piace tantissimo terzo preferito per questa categoria è un olio per le labbra il... riuscissi a leggerlo Eclat Minute Will Comfort Lever Instant Light Lip Comfort Oil della Clarence una via di mezzo tra un lip gloss e un balsamo per le labbra esiste in tante colorazioni diverse io ho scelto questa che si chiama sarebbe bello saperlo Honey Glam che ha tutta una serie di brillantini all'interno l'applicatore è bello grande il che permette di stendere facilmente il prodotto e il prodotto in sé è super super idratante quindi perfetto per l'inverno quando si hanno le labbra secche questo va proprio a reidratarle e poi aggiunge questo tocco glitter che strizza un po' l'occhio anche al mondo del make up ma senza essere eccessivamente intenso mi piace tantissimo, ve lo consiglio Clarence, olio per le labbra lo trovate come al solito anche da Sephora bene, questo è tutto per la categoria trucco adesso passiamo alla categoria abiti incredibilmente a dicembre non ho fatto acquisti folli anzi a dirvi la verità ho comprato veramente pochissimo anche perché poi di solito ci do dentro come una pazza durante i miei viaggi quest'anno alle Maldive neanche volendo si poteva comprare qualcosa infatti non ho comprato niente i miei due abiti preferiti o due articoli preferiti per la categoria abiti sono pezzi che ho acquistato all'inizio di dicembre il primo è una maglia questa maglia di Kukai che mi piace tantissimo purtroppo non sono più riuscita a trovarla online non c'è più traccia quindi credo che sia uscita già di produzione ma volevo farvela vedere perché ce ne sono di simili anche di altre marche la particolarità è che ha questo collettino bianco a contrasto Peter Pan in stile Peter Pan collar e poi ha questa parte semitrasparente quasi di uncinetto che la rende un po' più sexy ma al tempo stesso è una perfetta maglia da utilizzare in inverno né troppo pesante né troppo leggera semplicemente perfetta l'adoro e l'ho indossata tantissimo il secondo capo invece l'ho acquistato decisamente prima addirittura l'ho acquistato quest'estate mentre ero in viaggio ad Amsterdam in vista già dell'inverno perché me ne sono innamorata adesso cerco di farvelo vedere ed è un abito in stile retro in velluto con questa parte davanti di nuovo see through quindi leggermente trasparente molto molto sexy il taglio è anni 50 in velluto abbastanza strutturato adoro come veste l'ho indossato anche a Natale se non ricordo male nonostante fossi malata avevo questo vestito addosso per darmi un tono e poi l'ho indossato anche in tante altre occasioni durante tutto il mese di dicembre e qualche volta già anche a gennaio mi piace un sacco io l'avevo preso in questo negozio ad Amsterdam ma incredibilmente ho trovato il brand su Amazon shocking il brand si chiama Hearts and Roses perciò se vi piace l'idea fate un salto sul mio blog perché appunto trovate il link diretto e il prezzo è assolutamente abbordabile quindi soltanto due capi ma questi sono i miei preferiti per la sezione abiti cosa resta ancora? restano ancora due categorie i vari e i libri perciò passiamo ai vari benvenuti nella categoria dei vari che racchiude tutti quei prodotti che non so bene in quale altra categoria inserire quindi è un po' il gioco del vale tutto il primo prodotto del quale mi sono innamorata follemente è questa la GoPro la GoPro non è che sia proprio una novità degli ultimi giorni esiste da un sacco di tempo l'ho acquistata per andare alle Maldive perché sapevo che mi sarebbe assolutamente servito qualcosa per riprendere sott'acqua e ho scelto questa che è la Hero 5 Session mi pare si chiami comodissima, compattissima, piccolissima volendola si può agganciare a caschetti agganciare a moto, bici insomma è perfetta per fare delle riprese un po' più movimentate e poi soprattutto va sott'acqua che è una figata pazzesca se avete visto i miei vlog di viaggio dalle Maldive tutte le riprese sott'acqua e anche tutte le riprese di yoga o tutte le riprese un po' più in grand'angolo le ho fatte con questa signorina qua che sembra impossibile ma ha una qualità 4K quindi super alta definizione facilissima da usare ha un pulsante solo e dei settaggi diversi può fare shot in grand'angolo pazzesco anche con una inquadratura più stretta da tantissime possibilità l'adoro se amate i video se quando andate in viaggio vi piace poi avere un filmato della vostra vacanza le classiche diapositive da mostrare agli amici fate un salto in avanti con la GoPro ne vale la pena ce ne sono di tanti tipi diversi in commercio questa però posso testimoniare funziona da dio è semplicissima e in più si può collegare direttamente con l'app e quindi addirittura potete filmare e poi pubblicare su Instagram o sui vari social network direttamente salvando sul telefono figata quindi questo è il mio primo prodotto preferito per la categoria dei vari che mi è piaciuto da morire utilizzare durante il viaggio alle Maldive mi sto girando perché il mio secondo preferito è qui dietro di me ed è stato qui dietro di me per tutto il video ed è questa cosa fighissima un regalo di compleanno che mi è arrivato soltanto qualche giorno fa a gennaio quindi dalle mie amiche Alessia Antonella ci è voluto tanto e non è arrivato a novembre quando avrebbe dovuto perché si tratta appunto di prodotti fatti a mano lei la ragazza che fa queste opere fighissime si chiama Pollaz la trovate un po' su tutti i social network anche su Instagram per esempio e questa è la serie Pillowed and Framed quindi cucinati e incorniciati e fa questi ritratti fighissimi fatti appunto a cuscino cuciti a mano non so se notate il mio vestito preferito con la mia cintura di Gucci i capelli sono in versione viola mi piace da morire quando ho aperto il regalo mi sono commossa perché da tantissimo tempo sogno di avere un Pillowed and Framed di Pollaz ma quando avevo provato a prenotarlo io per Natale ero arrivata tardi e poi è passata l'occasione non l'ho più fatto perciò ragazze grazie di cuore mi piace da impazzire tra l'altro sempre di Pollaz ho anche la testa di Frida che è da qualche parte là ma voi non la vedete e adesso ve la faccio vedere perché ne ho parlato e sembra brutta aspettate eccola qua la testa di Frida in versione cuscino che avevo preso a Bologna qualche anno fa e da allora sono pazza di Pollaz la seguo su Instagram e quindi per forza per forza per forza dovevo inserire questo tra i miei preferiti di gennaio perché lo adoro brava se volete sapere di più di Pollaz vi metto il link al suo sito a Instagram insomma vi metto un po' di informazioni sul mio blog insieme a tutti gli altri prodotti e questi erano sì i miei due prodotti preferiti per la categoria dei vari adesso passiamo all'ultima categoria che è quella dei libri il mio libro preferito di dicembre gennaio è questo il bacio feroce anzi bacio feroce di Roberto Saviano che è il seguito dell'apparenza dei bambini un altro libro perché se non sbaglio vi ho consigliato in un video dei prodotti preferiti del mese di qualche mese fa mi era piaciuto molto e quindi non appena è uscito il seguito non potevo non acquistarlo e leggerlo e mi è piaciuto altrettanto come sempre Saviano racconta una parte di Napoli un po' più truce un po' più sotterranea anche se poi tanto sotterranea non è racconta soprattutto questa realtà delle organizzazioni criminali di ragazzini di adolescenti che sono sempre di più una realtà a Napoli ma mi viene da pensare non soltanto a Napoli continua la storia dell'apparenza dei bambini e della sua scesa al potere e tutto quello che ne consegue non voglio raccontarvi troppo anche perché se no spoilererei completamente il libro posso solo dirvi che è molto avvincente molto interessante se amate questo genere se amate appunto il genere di Saviano che ovviamente non è proprio definibile come leggero e spensierato a me è piaciuto ve lo consiglio bacio feroce vi leggo questo perché rende l'idea non voglio il bacio sulla guancia che si prende l'affetto non voglio il bacio sulle labbra che si prende l'amore voglio il bacio feroce che si prende tutto ragazzi bacio feroce Roberto Saviano e così siamo arrivati alla fine di un altro video dedicato ai miei prodotti preferiti che come al solito durano come una messa in chiesa spero però che le indicazioni che vi ho dato i suggerimenti che ho condiviso con voi vi siano piaciuti li abbiate trovati interessanti se qualcosa vi ha interessato più di altro fate un salto sul blog e trovate tutti i link diretti per saperne di più non c'è altro da dire se non che se questo video vi è piaciuto non dimenticate di cliccare mi piace se vi va attivate anche le notifiche cliccando sulla famosa icona della campana che vi permetterà appunto di ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video anche perché vi ricordo che da quest'anno ci sarà un solo video alla settimana al mercoledì quindi cercate di non perdervelo per oggi non c'è altro baci giganti e noi ci vediamo alla prossima ciao 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 Musica